Stadio Renzo Barberro, ore 15, Palermo-Cagliari, il derby delle Isi, tridente formato da Farias, Cossu e lungo prima punta, punta centrale, arbitra Peruzzo di Schio. Il primo a ventuno anni, ricordiamo, a Palermo dal 2012. Poi all'ottantacinquesimo, come si diceva da studio, la manita. Quinto gol, una fiondata di Barreto, gol anche del centrocampista paraguaiano. Palermo non ho risultato utile consecutivo a dopo...